In aggancio a quello che diceva il dottor Renzi Brio, la cefalea, muscolo tensiva, il dolore che parte dalla cervicale e la zona occipitale, la paura di tutti i soggetti che vengono in pronto soccorso è la meningite, quindi presentarsi in ospedale perché fa male questa zona della testa, è un dolore acuto o insopportabile, senza febbre noi diciamo che è difficile che sia una meningite, quando c'è la febbre è un problema, perché? Perché innanzitutto noi medici di pronto soccorso siamo quelli che facciamo la prima visita, quindi quando è comparsa la febbre, quanto è questa febbre, se la cefalea risponde o meno agli anti-infiammatori o anti-dolorifici utilizzati, se ci sono i tegni tipici della meningite, Brusinski o Kerning, che però sono positivi nel 5%, cioè la specificità del 5% e quindi non sempre ci aiutano. Cosa fare? La visita del medico del pronto soccorso, dopodiché entra in caso il neurologo, che in pronto soccorso a Mantua va, devo dire non manca mai. L'unico esame strumentale in questo caso, a parte gli esami ematochimici, è l'esecuzione di una TAC, TAC ad eseguire ancora prima della puntura lombare, proprio per evitare anche le controindicazioni della puntura lombare, quindi alla fine la diagnosi di meningite è una diagnosi strumentale. Però vorrei tranquillizzare chi ci ascolta da casa, perché i casi di meningite, cioè tra le cefalee che vengono in pronto soccorso, sono veramente una rarità, cioè su 160, anzi su 47.000, quasi 50.000 pazienti che accedono al pronto soccorso, nell'arco dell'anno si contano sulle dita di una sola mano i casi di vera meningite. Quindi comunque più che altro il fatto che una persona magari non riconosce il dolore, la testa che ha abitualmente, oppure non l'ha mai provato effettivamente così forte, che lo porta magari a non andare dal medico di base, ma a saltare e andare direttamente al pronto soccorso, per avere più che altro anche un accertamento diagnostico, perché a volte anche se la visita può essere accurata e comunque cerchi di tranquillizzare il paziente, il paziente vuole un passo dopo, che è la diagnosi strumentale e a volte... Questo è un vero problema, perché dobbiamo poi pensare che, come si diceva prima, il 70-80% delle cefalee sono femminili. Sottoporre a esami strumentali una donna in età fertile, quindi intendo dire un'attacca dell'encefalo, non è sempre consigliabile, perché poi anche lì c'è il rischio radiologico. Allora, un'anamnesi accurata, ma per anamnesi accurata io intendo dire anche che il soggetto che viene per il dolore e il mal di testa sappia riferire bene tutte le informazioni al medico che lo visita, perché non a caso, e cito una recente esperienza, donna venuta per l'ennesima volta in pronto soccorso, che non ha riferito di essere già stata in pronto soccorso per cefalea, che non ha riferito, che i suoi sintomi erano sempre, i suoi soliti sintomi, che non ha riferito di aver fatto già nell'arche dell'ultimo anno quattro TAC, si è beccata la quinta TAC. Ora, io spero che la signora e tutti a casa sappiano che il rischio radiologico vuol dire, a distanza di anni, contrarre anche delle patologie da radiazione. Certo. Quindi questa è un'informazione importantissima. Che forse dovrebbe essere data a certe volte ai pazienti più spesso, che c'è la radiografia, comunque la TAC, perché è una bella mazzata di raggi, deve essere fatta quando veramente c'è bisogno. Perché questo molte volte sfugge, perché sempre, siccome comunque non è un esame che fa male, cioè non è un esame invasivo, non è un endoscopia, non è una gastroscopia o una colonoscopia, comunque non ti fa niente di particolare, a volte soltanto la puntura del mezzo di contrasto, quindi comunque si può fare. Ed è una diseducazione, ma non l'hanno i pazienti, ma anche colpa nostra se non li odiamo, come medici di famiglia, che siamo il primo step, dovremmo dirlo. Io spesso lo dico, lo ricordo, anche con una tosse che dura due giorni, per esempio, non c'è bisogno immediatamente di fare la radiografia, soprattutto se magari hai fatto altri accertamenti poco tempo prima, perché l'accumulo dei raggi è riconosciuto come un fattore negativo, un fattore cancerogeno, appunto. Io non l'avevo detto, ma è bene sottolineare, è un fattore cancerogeno. Però ecco, il più delle volte siamo costretti, sottolineo costretti, a eseguire esami strumentali proprio per l'ansia, soprattutto dei familiari, perché se tu non esegui un esame strumentale stai sottovalutando il caso clinico e non ti stai prendendo cura del soggetto. Prendersi cura del soggetto e del paziente in questo caso vuol dire eliminare il dolore, quindi il sintomo, e questa è la cosa di cui dobbiamo curarci principalmente. Poi subentra lo specialista per chiarire l'origine della cefalea, se è una cefalea primaria, secondaria e così via. Ma inizialmente il compito del pronto soccorso è la terapia del dolore, innanzitutto. Ok. Ecco, ascolti, un breve accenno, vediamo un altro servizio che abbiamo preparato per voi per parlare della scoperta del gene del mal di testa. È notizia di un mese fa la scoperta del gene del mal di testa. I ricercatori del Medical Research Council dell'Università di Oxford hanno scoperto che alla base delle micranie c'è un gene che non funziona, noto come TRESC, che agisce direttamente sul cervello abbassando la soglia del dolore. Causa della sofferenza, in sostanza, sarebbe un infelice lascito ereditario alla quale si è giunti esaminando 110 malati di emicrania e le loro famiglie. Il gene TRESC infatti agirebbe sulla sensibilità dei nervi funzionando come un termostato che aprendosi e chiudendosi porta al momento di percezione di un dolore, a volte insopportabile. L'emicrania in genere colpisce gli adulti con un'età compresa tra i 30 e i 50 anni e il dolore che provoca può essere estremamente invalidante. Un attacco può durare fino a 72 ore e si ripete mediamente 13 volte all'anno. Un inferno. Il prossimo passo, dopo la scoperta del gene, sarà quello di trovare la cura adatta. Un po' di speranza, quindi, per tutte quelle persone che ne sono afflitte. La medicina funzionerà da interruttore per spegnere l'emicrania, ogni volta che determina la percezione del dolore, evitando di soffrire di frequenti e prolungati mal di testa. Dottoressa Costani, qualcuno è venuto da lei in ambulatoria a dire hanno trovato il gene del mal di testa, adesso cambia qualcosa? Sì, nel senso sono già venuti, ma anche per altre malattie. Magari fosse una cosa così semplice, cioè trovare, ma anche il servizio l'ha detto, cioè trovi il gene del mal di testa e hai, sai, una causa, ma non è che poi dopo il gene lo puoi disattivare. Cioè non è un interruttore che tu giri e quindi hai capito dov'è l'interruttore e riesci a... purtroppo no. E quindi è una predisposizione che ti fa capire che hai, giustamente era stato sottolineato, una soglia più bassa. Cioè hai il dolore prima degli altri. Dottoressa Magherini, cosa ne pensa? Dunque, un pochino l'abbiamo già detto prima. Anzi, avevo già accennato proprio il fatto che si eredita una bassa soglia allo scatenamento di crisi emicraniche in presenza di altri fattori ambientali. Per quanto riguarda la genetica dell'emicrania, faccerei un attimino più precisa, anche se si va un po' nello specifico, però mi collego anche a una delle domande che sono state fatte telefonicamente. I geni dell'emicrania studiati sono tantissimi. Quest'ultimo, insieme ad altri tre, è un gene che dà una spiegazione della predisposizione all'emicrania. E francamente non aggiunge tantissimo a quello che sappiamo già. Ci sono altre scoperte che datano 1996, 2003, 2005, quindi anche molto più vecchie, di specifici tipi di emicranie che sono monogenici, cioè trasmessi direttamente da genitore a figlio in via autosomico dominante. Questo tipo di emicrania è l'emicrania emiplegica familiare, che è l'emicrania che sicuramente spaventa di più. Chi la prova perché l'aura è un emiparesi, quindi non si riesce più a muovere il braccio e la gamba, esordisce nei ragazzini, a volte anche in età pediatrica, quindi ancora di più immaginiamoci l'ansia. E è stato scoperto che i tre geni che sono stati localizzati nelle famiglie affette sono tutti geni che codificano per dei canali ionici di membrana che fanno passare appunto il sodio, il potassio, e il calcio all'interno della membrana neuronale. Questo è lo stesso meccanismo che viene alterato nell'epilessia, a livello proprio cellulare dei neuroni. Quindi ci colleghiamo al fatto del perché gli antiepilettici vengono usati nella profilassa dell'emicrania, perché l'emicrania e l'epilessia, pur essendo malattie clinicamente completamente diverse, hanno una caratteristica comune, che è quello della crisi, cioè sono malattie che danno una crisi diversa ovviamente, però con un restituzio ad integrum, cioè il paziente finita la crisi è esattamente quello di prima, non ha nessuna lesione a livello cerebrale, è una persona sana al di fuori della crisi, però ha queste crisi. E non è un caso che i farmaci siano sostanzialmente gli stessi. Per cui questi studi di genetica sono fondamentali, come diceva la collega. Per raggiungere tasselli pian pianino, però a strada ancora. Da un punto di vista pratico e la vita di un paziente emicranico non hanno nessuna incidenza. Con questa scoperta non cambia nulla. Non c'è nessun modo di questo. Cioè che conta è la terapia alla fine, no? Esatto. Se posso dire una cosa molto breve, siccome quello che dice la collega medico di base è veramente fondamentale, cioè il paziente si spaventa davanti al bugiardino della maggior parte dei farmaci, esistono anche delle terapie, siccome l'emicrania in generale, ancora di più la cefalea, hanno una altissima correlazione con lo stato psicologico del paziente, con l'affaticamento, con la deprivazione di sonno, quindi con tutta una serie di elementi emotivi, chiamiamoli così. Un esempio a caso è l'emicrania da weekend. Cioè c'è chi ha l'emicrania solo nel weekend. Cioè quando il livello di stress cala bruscamente e viene fuori il mal di testa. Quindi per dire che abbiamo parlato appunto di molecole e di cime, però poi ci sono anche questi dati molto più. Esistono delle terapie di profilassi che non sono farmacologiche o comunque farmacologiche per modo di dire, come per esempio l'assunzione di magnesio, l'assunzione di vitamina B2, dico enzima Q10, quindi di sostanze del tutto innocue che in alcuni casi possono decisamente migliorare, fanno meno paura e quindi in quelle persone che non si capacitano del fatto che appunto i farmaci vanno presi il meno possibile ovviamente, però vanno presi quando necessari, possono essere una valida alternativa. Ecco il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio la dottoressa Gloria Costani, la dottoressa Anna Magherini, il dottor Gabriel Zacchè e il dottor Pierpaolo Parogni. Grazie di essere stati con noi, di averci spiegato un po' che cos'è il mal di testa all'emicrania e di aver aiutato anche i nostri telespettatori. Grazie a voi per averci seguito, buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.